Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Persone anziane e fragili nasce un servizio appositamente per le loro esigenze Minardi al Salone del Libro con 4 evidenti fanesi di prestigio Una città in mano ai bambini ritorna nel fine settimana Una città da giocare Tutti gli eventi dell'estate presentati questa mattina dalla Proloco di Fano Google Maps Car scannerizza da qualche giorno la città di Fano Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Occhio alla notizia. Apriamo questa edizione parlandovi di una fascia della nostra società particolarmente fragile, parliamo degli anziani e delle loro esigenze che spesso si traducono in grosse difficoltà quando si tratta di andare a fare la spesa o andare in farmacia. Per venire incontro alle loro necessità è stato creato un apposito servizio Sentiamo nel servizio di che cosa si tratta Un servizio di volontariato per aiutare anziani e persone in difficoltà che devono affrontare visite o spostamenti all'interno dell'area vasta numero 1 è quello organizzato dall'associazione Anteas Provinciale in collaborazione con il sindacato CIS di Fano Abbiamo individuato come destinatari tre comuni Comune di Fano, Mondolfo e San Costanzo per cui dal mese di giugno ci sarà operativo un telefono presso gli uffici dell'FNP CISL perché questo progetto nasce con la collaborazione dei pensionati della CISL e della CISL di Fano e questo ci fa piacere perché comunque potremo dare una risposta veramente a situazioni di disagio che ci sono nel nostro territorio sperando che anche le istituzioni si accolgano di questo e ci possano venire incontro I volontari che saranno sostenuti nelle spese di trasporto dai numerosi sponsor che hanno aderito all'iniziativa e dal 5x1000 si sposteranno sul territorio grazie ad un doblò messo a disposizione e incomodato d'uso gratuito per i prossimi 4 anni e dotato di pedana manuale per consentire l'accesso a disabili e carrozzine Le prenotazioni per gli spostamenti si potranno effettuare il martedì e giovedì dalle 9 a mezzogiorno chiamando il numero di sportello Anteas con almeno 15 giorni di anticipo per rispettare i tempi sanitari delle strutture e permettere l'organizzazione dei volontari dei quali in questi casi c'è sempre un grande bisogno E parliamo ora di verde pubblico perché dopo l'ascesa in campo di comici esponenti politici e gruppi di minoranza in consiglio comunale la parola passa ai fatti sono iniziati infatti da ieri e proprio dalle tanto bersagliate rotonde dell'interquartieri oggetto di sarcastici cartelli le opere di sfalcio e potatura del verde pubblico L'assessore ai lavori pubblici però Cristian Fanesi precisa che è solo una casuale coincidenza la partenza delle opere dopo queste denunce in quanto i lavori erano programmati da tempo si doveva attendere che una ditta si aggiudicasse il bando come avvenuto appunto nei giorni scorsi Tra le cooperative che hanno costituito l'ATI che sta operando in questi giorni e che opererà d'ora in avanti in città per il verde pubblico c'è anche la T41B che gestisce il verde e lo sfalcio negli spazi comunali di Pesaro Porterà a Fano 200 persone grazie ai relatori di fama mondiale il congresso medico della società di psicologia italiana che si terrà domani al Teatro Verdi Sentiamo le dichiarazioni di una delle loro promotrici l'assessore Barnisi Domani c'è un'iniziativa importante che riguarda una fascia d'età e dei cittadini particolarmente fragili della nostra comunità Sì, sono davvero molto soddisfatta di questo evento che siamo riusciti a portare nella città di Fano che è stata scelta dalla SIPI che è la società italiana di psicologia dell'invecchiamento che ha il suo decimo convegno nazionale e che fa Fano perché Fano è una città che sta lavorando molto in questo settore avendoci una percentuale della popolazione anziana over 65 molto alta una media che supera la media regionale come città e che proprio per questo si è attrezzata da sempre ed oggi intensificando proprio sia i servizi in termini di assistenza ma anche di promozione del benessere degli anziani quindi favorendo il benessere dell'allungamento della vita media delle donne e degli uomini oltre 65 anni che cosa succede? Che questo convegno nazionale vedrà nella giornata di domani l'apertura al Teatro della Fortuna con la presenza di importanti relatori sia nazionali che internazionali e questo significa che ci sarà un dibattito nella nostra città di altissima levatura che porterà a Fano circa 200 persone come convegnisti e come relatori e mettendo al centro l'attenzione proprio del dibattito le nuove tecnologie di intervento per quanto riguarda il contrasto alle demenze l'Alzheimer e non solo ma anche tematiche che colpiscono le persone anziane nel procedere degli anni quindi dall'America, dal centro America dall'Europa abbiamo anche proprio dei contributi che arrivano dalla ricerca che potranno essere utilizzati anche nelle nostre realtà sociali e sanitarie e diventa davvero per noi ed è per noi oggetto di grande soddisfazione Parliamo di scuola perché è una perfetta sinergia tra corpo docente, genitori ed alunni sta dando vita nella scuola dell'Istituto Comprensivo Gandiglio a tutta una serie di iniziative noi siamo andati a vedere quella che è andata in scena quest'oggi dalla mattina fino al pomeriggio vediamo di che cosa si tratta Per una scuola come la Gandiglio di Fano con un indirizzo artistico come la musica pensare e realizzare una giornata dedicata alla creatività è stato presso a poco come per un pescatore pensare ad una zuppa di pesce gli ingredienti per realizzare il tutto ci sono ed in abbondanza alunni ben stimolati corpo docente preparato ed attento supporto dei genitori e struttura detto fatto oggi debutto assoluto di questa iniziativa che verrà riproposta annualmente con tematiche sempre diverse però quella di questa prima edizione è Io sono pace la pace tema più attuale e stimolante di questo non si poteva trovare e sul quale gli alunni coordinati dagli insegnanti d'arte hanno espresso al meglio la loro interpretazione utilizzando tecniche e stili diversissimi ispirandosi anche ad artisti di grande contemporaneità come Keith Haring pittore e writer statunitense guru della street art quindi abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi questo significato nell'accettazione di sé dell'altro di tutto quello che ci sta capitando è una scuola dove anche i genitori sono parte attiva l'atrio da poco ritinteggiato e opera a loro certamente anche questo è un altro progetto che va avanti più o meno da tre anni ed è appunto prende il nome di manteniamo la scuola pulita in questa occasione abbiamo avuto anche la possibilità di avere l'aiuto di molti genitori che sono venuti sabato e domenica e hanno ripitturato l'atrio una cosa che poi andrà avanti dal prossimo anno faremo più belle le nostre aule insomma più vivibili e più colorate per i nostri ragazzi giorno di festa per alunni e insegnanti quindi e anche per gli attivissimi genitori nel pomeriggio oltre alle premiazioni dei vincitori delle classi seconde altre forme d'arte hanno preso vita nel cortile della scuola come il canto, la poesia, il ballo e naturalmente la musica il vice presidente dell'assemblea legislativa delle Marche parteciperà domenica 21 maggio alla presentazione di passaggi festival della saggistica il premio letteraria e le collane i maestri del carnevale e un territorio da fiaba presso lo stand della regione delle Marche al salone del libro di Torino si tratta di quattro importanti eventi culturali che nascono da Fano e dal territorio provinciale pesarese sono iniziative sottolinea Minardi che danno prestigio non solo alla città di Fano e al suo territorio ma a tutta la regione caratterizzate da un significativo coinvolgimento di tanti giovani chiamati ad essere protagonisti delle realtà in cui vivono iniziative ospitate queste in una vetrina straordinaria come quella del Salone Internazionale del Libro di Torino e ritorniamo sempre a parlare di bambini questa alternanza anziani e bambini in questa edizione di Occhio alla Notizia e come sarebbero le nostre città se fossero nelle mani appunto dei più piccoli ritorna a Fano questo fine settimana appunto la città dei bambini Sarà un programma ricco quello proposto domenica 21 maggio in occasione dell'edizione 2017 della città da giocare la manifestazione promossa dal comune di Fano che vede la città donare per un giorno le proprie strade ai bambini chiuso infatti al traffico il centro storico Viale Gramsci e Viale Buozzi che vedranno il susseguirsi di attività laboratoriali e performance di scuole e di gruppi sportivi e anche per questa edizione saranno tantissime le novità la presenza anche di un set come fanno gli amici della carnevalesca con la carta pesta per dare la possibilità di scoprire ai bambini cosa significa un set cinematografico perché abbiamo avuto un invito c'è un interesse per l'autunno di organizzare anche un Fano Joe Festival un festival del cinema dedicato ai giovani e anche questo è dimostrazione che quando si cresce poi si diventa punto di riferimento sulla Fano città da giocare sulla Fano città dei bambini e delle bambine Fano sta diventando sempre più punto di riferimento non solo più regionale ma anche nazionale questo è il miglior riconoscimento del buon lavoro che si sta facendo un progetto di riferimento un progetto che chiama in causa dunque non solo la scuola e i servizi educativi ma un po' tutti i settori mobilità verde pubblico interventi di riqualificazione con l'obiettivo di mettere i bambini nelle condizioni di riappropriarsi degli spazi pubblici con la consapevolezza che saranno non solo cittadini del presente ma soprattutto del futuro Beh è un grande momento una grande occasione che si riconferma e ogni anno è sempre più importante e lo dimostra anche la grande partecipazione di tutte le associazioni che hanno aderito le scuole e immaginiamo che ci sarà tantissima gente E quando si parla di solidarietà gli italiani e i fanesi anche non sono sicuramente secondi a nessuno ma nell'immediatezza è qualcosa di spontaneo che viene proprio dal cuore e dall'animo di tutti noi Il problema però si sposta una volta che si spengono i riflettori appunto al dopo e c'è un'iniziativa nel sabato e nella domenica a fanesimi prossimi che riguarda proprio il dopo il dopo terremoto per non far mancare il supporto a chi sta peggio di noi naturalmente di tutti quanti noi che siamo sicuramente in una condizione migliore Dopo l'evento del 22 settembre scorso in piazza che in una sola sera ha permesso di raccogliere ben 17 mila euro da donare ai comuni terremotati delle marche l'associazione Unicorno ha deciso di fare il bis sabato 20 e domenica 21 questa volta nella zona del Pincio Il weekend di solidarietà partirà sabato sera con una cena a base di pesce preparato dai cuochi del mare dell'associazione Vongolai di Fano mentre domenica un pranzo cucinato dai volontari dell'associazione ci proporrà i sughi delle zone terremotate Amatrice e Norcia e uno speciale menu bimbi per accogliere gli ospiti della manifestazione parallela la città dei bambini In realtà siamo stati anche nei paesi terremotati abbiamo visto abbiamo parlato con la gente quindi abbiamo cercato di ci hanno chiesto aiuto e l'abbiamo fatto l'associazione è nata per esigenze perché comunque è tutto più semplice il comune ci ha dato una mano con la possibilità di lavorare solo pubblico senza pagare niente abbiamo dei volontari attorno e quindi lavoriamo su questo e d'altra parte ci sono queste esigenze la volontà di tutti noi è quella di aiutare poi fa bene a noi stessi aiutare il prossimo poi personalmente io vengo da un'esperienza in cui mi accorgo che l'aiuto degli altri è piacevole ti fa sentire meglio Musica e animazione con spettacoli dal vivo per questa iniziativa ampiamente sostenuta dall'amministrazione comunale è supportata da molte associazioni locali e da moltissimi volontari che hanno dato il loro contributo per consentirne la realizzazione sono dei ottimi anzi bravissimi musicisti turnisti tra i quali alla batteria Max Ferri Giulio Vampa la chitarra Lorenzo De Angeli al basso e Lorenzo Giovagnoli alle tastiere sarà sicuramente una bella serata di musica il ricavato sarà devoluto in beneficenza ai comuni delle Marche di Castel Sant'Angelo sul Nera Tolentino e Pieve Torina che lottano da mesi per la ricostruzione dopo il sisma e proprio da questa rinascita prende spunto il titolo dell'evento Marche in piedi si chiamerà infatti ad indicare la volontà di rialzarsi e ripartire bene se potete andateci a pranzo e a cena perché oltre che fare una ottima mangiata fate sicuramente un'operazione umanitaria che è quella di sostenere chi in questo momento ha bisogno di noi allora ce lo avete segnalato le vostre segnalazioni per noi sono importanti e ci diamo seguito quando è possibile perché a Fano si aggira l'auto di Google Earth per la registrazione della Street View su Google Maps oggi l'abbiamo vista mentre era ferma davanti alla polizia municipale per richiedere il permesso per poter entrare nelle zone ZTL il conducente ci ha detto infatti che stanno aggiornando le strade cittadine che verranno poi caricate sul più famoso navigatore del web e affrontiamo l'argomento estate eventi e promozione naturalmente protagonista dell'estate come sempre la proloco di Fano che ha presentato il vastissimo e ricchissimo programma estivo 18 eventi divisi tra campagnoli e culturali più tutti gli appuntamenti alla BCC Arena con concerti e la segna teatro sotto le stelle a cui si aggiungono il programma per la famiglia di Torrette Promotion e la nuova entrata obiettivo Ponte Sasso con i nove appuntamenti estivi è un programma quello della proloco di Fano che non trascura nessun elemento per fare dell'accoglienza turistica un fiore all'occhiello di Fano e che nella sua varietà di proposte incentrate sull'intrattenimento ben si raccorda con quelle dell'amministrazione comunale e dell'assessorato al turismo che pur con un taglio diverso parlano la stessa lingua quella del turismo di qualità ritrovarsi insieme attorno a Buon Cibo in una bella festa che fa scoprire anche angoli diversi meno canonici della città perché Fano è bella in tante sue parti ci consente anche di dare un'opportunità un'esperienza maggiore ai turisti perché è una sera in centro storico una sera al mare una sera magari un po' nelle periferie che hanno bellissime cose da far vedere e anche tradizioni loro da raccontare eccellenze territoriali enogastronomia tradizioni e storia da maggio ad agosto tutto in un'estate con appuntamenti ormai consolidati e le novità di quest'anno l'obiettivo Ponte Sasso nel lungomare darà vita a tutta una serie di appuntamenti con un evento clou che sarà un po' un'anteprima del Festival del Brodetto con un nome molto particolare si chiama la festa il Gir Dlamenca e vedrà la presenza di Mario Tessuto lo ricordiamo con la famosa canzone Lisa dagli occhi blu quindi un suo concerto e quella sera si mangerà a Brodetto un evento che cercherà di caratterizzarli Bene tanti appuntamenti naturalmente la brochure con tutto il programma la troverete in giro nei vari punti di raccordo e negli iate e negli alberghi naturalmente per tenere tutto sotto controllo prima di lasciarci concludiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia con quello che seguirà dopo il nostro telegiornale ci sarà una puntata di In Cucina con lo Chef una breve sfilata di moda e poi non perdetevi un'altra puntata del Pesce Azzurro Show con quei mattacchioni simpatici del San Costanzo Show grazie per essere stati in nostra compagnia questo è tutto Occhio alla Notizia torna domani sera alle 20.30 buona serata grazie per la visione